La procura di Ascoli Picciano indaga da tempo sulla morte di Salvatore Cuomo Piscitelli e sui presunti pestaggi subiti nel carcere di Marino del Tronto dai detenuti che vi furono trasferiti dal carcere di Modena nel marzo 2020, in pieno lockdown dopo la rivolta. A seguito di un esposto arrivato alcuni mesi dopo i fatti, il procuratore capo Umberto Monti ha aperto un fascicolo contro i gnoti. Sono stati ascoltati diversi detenuti, ex detenuti e altre persone informate sui fatti, sanitari ed infermieri. Ma ora il caso è finito anche all'attenzione del ministro della giustizia Marta Cartabia, per via di un reclamo inviato da un detenuto che sarebbe uno dei cinque testimoni della morte di Piscitelli. Come sottolineato dall'esposto presentato in passato alla procura di Ancona, proprio dai cinque detenuti, il quarantenne è raggiunto da Modena in fin di vita. A diffondere il racconto del detenuto è stato il Comitato Verità e Giustizia per la strage del Sant'Anna, che è tornato a chiedere di far luce sull'episodio dopo le violenze nel carcere di Santa Maria Capoavetere. A suo tempo l'autopsia, effettuata dalla medicina legale dell'area Vasta 5 all'ospedale Mazzoni di Ascoli, mise in evidenza l'assenza di lesioni esterne, accertando che il decesso del detenuto era conseguenza dell'overdose del metadone, assunto presumibilmente durante la rivolta nel carcere di Modena. Il procuratore Monti è comunque in attesa del deposito di una nuova consulenza collegiale su eventuali ritardi nei soccorsi prestati a Piscitelli. Fonti interne al carcere di Ascoli riferiscono poi che le immagini di quanto accaduto non ci sono e che si è riusciti ad estrapolare solo dei fotogrammi che ritraggono alcuni momenti dell'arrivo di Piscitelli nella casa circondariale, in cui si vede che lo stesso si reca verso il reparto detentivo sulle sue gambe, immagini che sono già in mano alla magistratura.